Ciao a tutti e bentornati. Durante le scorse settimane avevo detto che stavo valutando la vendita di una delle mie azioni e pochi giorni fa è arrivato il momento. Ho venduto tutte le mie azioni di una delle aziende nel mio portafoglio e ho usato gli stessi soldi per comprare azioni di un'altra azienda. Nell'episodio di oggi scopriamo di quali azioni stiamo parlando e quindi iniziamo subito. Prima di entrare nel vivo del tema di oggi vorrei rispondere a un commento ricevuto sotto all'episodio numero 80 di due settimane fa dove in copertina al video come sempre mostravo il valore del mio portafoglio. In quel momento era di 172 mila euro mentre nella copertina del video precedente il valore era di 167 mila euro. Il commento mi è sembrato avesse un tono sospettoso e in pratica chiedeva come fosse possibile che in una settimana il mio portafoglio fosse aumentato di ben 5 mila euro da 167 mila a 172 mila euro. Quasi come a voler insinuare il dubbio che io pubblichi numeri falsi o pompati solamente per fare visualizzazioni. La realtà è molto più semplice. Innanzitutto potete sempre seguire l'andamento del mio portafoglio in tempo reale tramite il sito GetQueen di cui trovate il link qui sotto in descrizione. In secondo luogo durante quella settimana specifica ci fu un bel rialzo dei mercati azionari e anche di bitcoin che hanno portato un rialzo anche al mio portafoglio. Un aumento di 5 mila euro in pochi giorni può sembrare tanto ma se ci pensiamo bene su un portafoglio di 167 mila euro si tratta solamente di un 3 per cento in più e una variazione del 3 per cento in positivo o negativo è del tutto fisiologica in un portafoglio come il mio. Pensate a chi ha un portafoglio da diversi milioni o addirittura miliardi come il grande Warren Buffett. In questi casi il valore del portafoglio può oscillare anche di diversi milioni o anche miliardi in un solo giorno. Quindi chiaramente più un portafoglio è grande più saranno grandi le sue oscillazioni anche se la variazione in percentuale è piccola. Anche questo è un concetto da tenere bene a mente. Ora però arriviamo al tema di oggi e iniziamo con l'azienda che ho deciso di vendere. Non vi lascio sulle spine e vi dico subito che si tratta di T. Rowe Price, l'azienda americana che opera nel settore finanziario e precisamente si occupa di gestione di patrimoni, fondi pensione, fondi di investimento e consulenza finanziaria personalizzata. Ho comprato le azioni di T. Rowe Price nel 2022 dopo il crollo dai massimi toccati nel 2021 e da quel momento il prezzo delle azioni non è andato da nessuna parte. Quello che però mi interessava principalmente erano i fondamentali dell'azienda. Fondamentali che da quel momento non sono cresciuti come avrei voluto. Il fatturato sta comunque crescendo anche se a un ritmo abbastanza lento. Sono però altre le cose che non mi sono piaciute particolarmente e che mi hanno portato a prendere la decisione di vendere. Gli utili totali e gli utili per azione hanno ripreso a crescere ma sono ancora sotto ai livelli toccati nel 2020 nonostante il mercato azionario sia ai massimi storici. Faccio questo collegamento poiché come detto l'azienda dipende molto dall'andamento del mercato azionario poiché incassa delle commissioni sui servizi offerti per gli investimenti dei propri clienti e quindi con il mercato azionario ai massimi storici e due annate incredibili come il 2023 e questo 2024 mi sarei aspettato che l'azienda registrasse un record per quanto riguarda fatturato utili e utili per azione e me lo aspettavo anche per il free cash flow che invece resta anch'esso sotto ai livelli del 2020. Inoltre in questi due anni con il prezzo delle azioni molto basso l'azienda ha ridotto il buyback e ha ridotto anche gli aumenti dei dividendi annuali. Sicuramente questo è avvenuto perché come visto poco fa il free cash flow è stato più basso degli anni precedenti però è proprio in momenti come questo che ha senso fare buyback in modo aggressivo. Buyback che l'azienda oltretutto avrebbe potuto permettersi senza grossi problemi dato che non ha alcun debito e ha oltre 3 miliardi di cash a disposizione oltre al free cash flow. Onestamente quindi non mi è piaciuto molto il comportamento della dirigenza su questi aspetti. Come ciliegina sulla torta ma in senso negativo abbiamo anche un calo del ritorno sul capitale che è una delle metriche più importanti e che vorrei vedere sempre stabile o in crescita. Questo calo insieme al calo dei margini è il motivo per cui siano calati gli utili nonostante il fatturato sia invece aumentato. Quindi sebbene io sia convinto che questa azienda sia solida e continuerà a esistere per moltissimi anni in futuro non sono più convinto che possa generare rendimenti superiori al mercato ed è per questo motivo che ho deciso di vendere le mie 10 azioni. Sono riuscito per fortuna a vendere anche con un piccolo guadagno che sommato ai dividendi ricevuti nel corso degli ultimi due anni mi ha permesso di rispettare la regola numero uno di Warren Buffett per quanto riguarda gli investimenti e cioè mai perdere soldi. Come vediamo in questa piccola tabella ho chiuso questo mio investimento con un guadagno totale di soli 83 euro tra capital gain e dividendi. Questo calcolo è già al netto delle tasse pagate sui dividendi mentre sul piccolo capital gain non ho pagato nulla di tasse poiché avevo qualche minusvalenza ancora da recuperare. Qualcuno potrebbe pensare quindi che la maggior parte del mio guadagno sia stato grazie ai dividendi e in effetti è vero ma ricordiamoci sempre che se l'azienda non avesse pagato questi dividendi il prezzo delle azioni sarebbe stato più alto. Questo perché ogni volta che viene staccato un dividendo il prezzo delle azioni cala dello stesso importo quindi se non avessi ricevuto questi dividendi probabilmente avrei avuto una plusvalenza maggiore e al netto delle tasse avrei avuto dei rendimenti più o meno simili o anzi i rendimenti sarebbero stati addirittura migliori senza dividendi poiché ci sarebbe stato un minimo di interesse composto anche se su un periodo di tempo così breve e con un rendimento così basso sarebbe stato davvero irrilevante. Senza contare inoltre che non avrei pagato tasse sulle plusvalenze avendo ancora qualche minusvalenza da recuperare. Detto ciò questa mia operazione non è una condanna per tutti gli azionisti di T-Row Price. Come ho detto sono convinto che l'azienda sia buona e potrà continuare a crescere in futuro. Semplicemente non penso che potrà battere il mercato con costanza sul lungo termine. Ovviamente da domani il prezzo delle azioni di T-Row Price schizzerà alle stelle perché è sempre così che funziona quando si vende un'azione e sono sicuro che sarà capitato anche a voi. Passiamo ora alle nuove azioni che ho comprato. Prima però se questo video vi sta piacendo vi chiederei come sempre un like ed iscrivervi al canale. Sapete che per me è l'unico modo per crescere e mi piacerebbe raggiungere i 4.000 iscritti entro la fine dell'anno. Mi manca davvero poco. In un mercato che ha i massimi storici è difficile trovare aziende di qualità che siano anche a sconto così da sfruttare qualche occasione. La mia scelta numero uno sarebbe stata quella di incrementare la mia posizione in azioni di Berkshire Hathaway, il colosso gestito da Warren Buffett. Sono stato frenato da due motivi molto semplici. Il prezzo delle azioni è ai massimi storici ma non è questo il motivo. Un'azione può essere ai massimi storici ma essere a sconto, viceversa potrebbe essere ai minimi annuali ed essere sopravvalutata. Il primo motivo in realtà è la valutazione. Infatti per le azioni Berkshire guardo il price to book value e dall'inizio dell'anno è sempre stato superiore al valore di 1.5 raggiungendo anche l'1.7. L'ideale per me sarebbe comprare le azioni quando questa metrica scende sotto all'1.3 ma potrebbe andarvi bene anche 1.4. Il secondo motivo che ha confermato questa mia idea è stato proprio Warren Buffett poiché negli ultimi tre mesi non ha fatto alcun buyback e questo non accadeva dal 2018. Significa quindi che anche per Buffett il prezzo delle azioni Berkshire al momento è troppo alto. Ho quindi deciso di utilizzare i soldi provenienti dalla vendita di azioni di T. Rowe Price per incrementare un'altra delle aziende che ho già nel mio portafoglio e che in un certo senso considero quasi come se fosse una piccola Berkshire Hathaway. Sto parlando di Exor, la holding gestita dalla famiglia Agnelli alla quale ho dedicato due video quest'anno e di cui vi lascio il link qui in alto. La dirigenza dell'azienda ha sempre dichiarato nero su bianco che l'obiettivo è quello di generare rendimenti superiori all'indice MSI World e storicamente parlando l'obiettivo è sempre stato raggiunto. Chiaramente Exor non è riuscita a battere il mercato in ogni singolo anno ma ci è riuscita sul lungo termine. Quest'anno invece i rendimenti di Exor per ora sono inferiori al mercato e quindi ho reputato che potesse essere una buona occasione per incrementare la mia posizione e ne ho avuto conferma anche facendo una semplice valutazione. Questa tabella è stata fornita proprio da Exor alla presentazione degli ultimi risultati e mostra il valore dei vari asset posseduti al 30 giugno 2024. Come vediamo ci sono le aziende quotate pubblicamente come Ferrari, Stellantis, Philips e Juventus che avevano un valore complessivo di 34 miliardi circa. Poi ci sono altre aziende private e altri investimenti che portano il valore complessivo di tutti gli asset a 43 miliardi. Da questi dobbiamo togliere i debiti e si arriva a un valore netto totale di 38 miliardi di euro. Dividendo questo valore per il numero delle azioni in circolazione e cioè poco meno di 215 milioni significa che ogni azione poteva avere un valore di circa 178 euro in base agli asset posseduti dall'azienda. Ma al 30 giugno il prezzo delle azioni era di 97,70 euro. Quindi ogni azione aveva un prezzo molto a sconto rispetto al valore netto degli asset in gestione. Io ho aggiornato i valori delle aziende quotate ogni mese e ho fatto l'ultimo aggiornamento nel momento del mio acquisto di pochi giorni fa, il 26 novembre. La capitalizzazione di mercato di Exor è di poco superiore ai 20 miliardi di euro e come vediamo qui la sola partecipazione in Ferrari vale oggi poco più di 18 miliardi di euro. Quindi comprando oggi azioni di Exor è come se stessimo comprando a prezzo pieno Ferrari più le altre aziende pubbliche più piccole come Iveco, Juventus e Clarivate. Ma allo stesso tempo staremmo comprando gratis anche tutti gli altri asset come Stellantis, Philips, CNH più tutti gli investimenti privati di Exor che crescono anno dopo anno. Con i valori aggiornati il valore netto degli asset sarebbe molto simile a quello di giugno ma il prezzo delle azioni in questi giorni è più basso e quindi abbiamo uno sconto maggiore. Il prezzo delle azioni al momento del mio acquisto era solamente il 52,89% del valore netto per azione, quindi uno sconto di circa il 47%. Come ho sempre detto non mi aspetto che questo sconto sia zeri poiché altrimenti sarebbe equivalente a comprare direttamente azioni di Ferrari e delle altre aziende. Mi aspetto però che questo sconto in futuro possa diminuire e di conseguenza anche solo questa riduzione nello sconto genererebbe rendimenti positivi per l'azienda oltre ovviamente alla crescita dei vari asset posseduti che può continuare nel corso degli anni. Non mi aspetto da questa azienda rendimenti stellari, tuttavia mi aspetto rendimenti in linea con il mercato ma con la possibilità di fare qualche punto percentuale in più come già accaduto in passato e qualche punto in percentuale in più sul lungo termine vuol dire un grande rendimento totale in più. Inoltre la dirigenza gestita da John Elkan mi sembra si stia muovendo nel modo giusto. Ha lanciato le operazioni di buyback nei momenti in cui il prezzo delle azioni era più basso e continuerà a farlo ogni volta che riterrà opportuno. Rispetto alla fine del 2023 è anche stato ridotto il debito e questo potrebbe continuare anche nei prossimi mesi. E leggendo le lettere annuali scritte da John Elkan mi è sempre piaciuto che abbia citato spesso Warren Buffett e il suo modo di investire con obiettivo a lungo termine. Exor è una delle tante aziende gestite e portate avanti da una famiglia per diverse generazioni e questo tipo di aziende storicamente riesce a generare ottimi rendimenti. Inoltre l'azienda è un po' anche la cassaforte della famiglia Agnelli e quindi da parte loro c'è tutto l'interesse a farla crescere il più possibile nel corso del tempo e non mi dispiacerebbe approfittare di questa crescita anche con i miei investimenti. Fatemi sapere nei commenti qui sotto cosa pensate di questo mio aggiornamento. Con questa mossa ora ho azioni di sole 10 aziende in portafoglio e come ho sempre detto è un numero che mi piace anche se potrei arrivare ad averne massimo 15. Come sempre farò acquisti ogni qual volta riterrò che ci siano buone occasioni che mi permettano di generare rendimenti superiori al mercato e potrò sia incrementare posizioni già presenti nel mio portafoglio come ho appena fatto con Exor ma potrò anche comprare nuove azioni dalla mia watchlist. Se il famoso Mr. Market dovesse offrirmi qualche offerta allettante cercherò di farmi trovare pronto. Per oggi è tutto non mi resta che darvi appuntamento al prossimo episodio. Ciao! Grazie a tutti!